Musica All'amici del Canto TV, oggi ci troviamo qui a Caffè Greta, bar in via Casilina 1942 e stiamo con i proprietari di questo bellissimo locale Ciao Jimmy Buonasera Ciao a tutti Questa è la famigliola, quindi loro gestiscono questo grande bar che prossimamente avremo anche le Tabacchi, sala sglo Sì, arriverà tutto, sala WLT, arriveranno i tabacchi, un pochino di cose diciamo mancano inizialmente ma piano piano, a breve ci sarà tutto Quindi abbiamo aperto da poco giustamente, no? Quante è che abbiamo aperto? Settimane Settimane, quindi prossimamente faremo degli eventi qui, giusto? Già abbiamo fatto il karaoke, quindi ci sono musica quasi tutti i giorni Quindi veniteci a trovare qui in via Casilina 1942, bar Greta Jimmy, insomma annunciamo quello che fai, diciamo le serate in tema particolare, cosa fai da mangiare, un po' di tutto, dai Allora noi puntiamo, diciamo il nostro conto forte sono i cornetti, puntiamo su quello e facciamo cornetti di tutti i tipi, cornetti pandistelle, ringo, kinder bueno, cose un po' particolari E questo è il cuore diciamo di questo bar Quindi per adesso abbiamo diciamo cornetti sfornati quasi tutte le ore Ogni due ore sono i cornetti caldi Poi ricordiamo che noi chiudiamo alle 22 di sera, giusto? Qui si chiude alle 22 di sera Non chiude mai, siamo 24 ore 24 ore su 24, eh Giro Ti vedo anche un po' giù, vabbè però dai, è l'inizio La prima volta non, giustamente ci vede un po' giù perché è la prima volta Però il locale insomma è molto bello, luminoso, pieno di giovani, quindi dai promette bene Sì abbiamo un bello staff, qualcuno è qui presente Che ora andremo a vedere, vediamo qualche sala che abbiamo qui, quindi prossimamente anche VLT, giusto? Sì, a breve A breve Quindi amici ricordiamo che sabato 25 saremo qui con le telecamere del Cantatori TV Quindi venite a partecipare al nostro talent e qui al Bar Greta In via Casinina 1942 Facciamo un saluto agli amici Vi aspettiamo, ciao Vi aspettiamo, ciao ciao Venite e spendete tanto Ciao Grazie a tutti Buonasera amici del Cantatori TV Questa sera stiamo qui per la seconda puntata al Bar Greta In via Casinina 1942 E so dire al bancone, il magnifico bancone dove come potete vedere abbiamo una ricca scelta di cornetti sfornati ogni ora Eccola qui la nostra Sofia Ciao Sofia, come stai? Buonasera, tutto bene, grazie Tu qui che mansione svolgi? Io sto in cassa, diciamo mi occupo della cassa, dei conti, della cassiera Contabile diciamo Da quant'è che lavori qui? Da quando abbiamo aperto Quindi è poco diciamo, due settimane, un mesetto Tu i cornetti qui tutte le ore come funzionano? Sì, diciamo che ogni sei ore storniamo i cornetti, sempre i caldi Allora Luna, ciao come va? Tutto bene Allora tu qui nel Bar Greta, che mansione svolgi? Faccio la cassiera con Sonia Ah quindi due cassiera abbiamo, qui si incassa tanto qui Sì, sì, tantissimo Ciao Valeria, come va? Tutto a posto Lei ha partecipato alla prima gara del talent show, è arrivata diciamo quasi prima perché è arrivata seconda Come è andata? Eh, diciamo bene Senti un po', tu cosa, che mansione svolgi qui? Ah io sono un jolly E non poteva mancare nonché il nostro grande Renato perché lo conosco Renato, è un mio amico, come va Renato? Tutto bene, grazie, tu come stai? Bene, bene, senti un po', Renato, cosa svolgi qui tu al Bar Greta? Io faccio principalmente le serate cocktail, in questo caso sono barman accanto a Katia Che questa sera mi affiancherà durante la serata del tuo show Che ovviamente è conosciuto dappertutto Grazie E non manca mai il divertimento, con te c'è sempre Specialmente al Bar Greta abbiamo vasta gamma di, diciamo, tante sale dove respirare anche aria fresca perché in questo periodo fa caldo Quindi abbiamo un monito, televisori per vedere le partite Quindi veniteci a trovare, via? Via Casilina, 1942 Bar Greta, ci vediamo dopo al talent show, Renato Sì, forse Ciao Allora amici stiamo qui con un primo cantante, lui è Costantino, lo conosciamo in vari locali di Roma, lui è conosciutissimo, come va? Sì, tutto bene, grazie Guarda là, un saluto a casa, ciao Questa sera che performance ti esibisci? Tanta voglia di lei Tanta voglia di lei? Lei è la ragazza, come stai? Buonasera, tutto bene Quindi questa sera tanta voglia di lei, ma di chi sarà questa voglia? Di chi sarà la mia? Ok, allora ci vediamo dopo in gara Va benissimo Ciao Ciao Allora andiamo a presentare la giuria del Cantatore TV questa sera qui al Bar Greta Abbiamo la signorina Ciscila Ciscila da Roma Ciscila Poi Simona Alessio Alessio Valerio E Valerio Questa sera saranno loro a giudicare il vincitore e dare il premio del viaggio Facciamo un applauso Take me to church I worship like a dog Perdere l'amore Quando si fa sempre Quando sopra il peso c'è una ruga che non c'è Provi a ragionare Fai l'indifferente Fino a che ti accorgi che non sei servito a niente E vorreste urlare Soffocare il cielo Baccherello a testa mille volte contro il muro Respirare fuori del suo cucino Dire tutta colpa del destino Se non lo vicino Perdere l'amore Allora che canzone ci cantate? Il gatto e la volta Tu sei il gatto Io la volta Cioè tu fai tutto e due Allora facciamo un applauso dai Bravissimi dai Noi scopriamo dalle acchie E compagni amici Due qualità Darci solo quattro volete E ti sfrigliamo al concorso Per la celebrità Non pensi per me a fare Non perdere l'occasione Se non poi te ne perdirai Non capitano tutti i giorni Di avere i tuoi consulenti E gli impresari E si fanno quattro per te Qui sono usciti parecchi artisti Vedi anche il cameraman C'è rimasto sotto Che canzone ci fa ascoltare? Arte di Cristina Aguiletti E si fanno quattro per te Dopo Ilaria Non poteva mancare Davide Senti un po' Davide Che canzone? Perché? Di chi è? Fausto Leano L'anno nuovo per magia Te poneva regali La tristezza e l'allegria E dei giorni normali L'anno vecchio stavo lì Metto in mezzo alle mani Come chi ha finito ormai E dopo di domani Non sa perché Perché Lasciatemi cantare Lasciatemi cantare Perché Perché ne sono vero Sono un italiano Un italiano vero Take me to church Take me to church I worship like a dog Un'altra Ma non è vecchio di Che non è che E mi piace di Che non è che Il giorno vero E mi piace di 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 Vieni qua Nikolas, vieni Come è andata? Bene Allora lanciamo una sfida Venitemi a sfidare Allora Marzia con Non succederà più succederà più, io dico di sì, mettarti contento e penso, succederà più, l'amore più è stato. L'importante è? Partecipare e divertire. Bravissima, perché qui non siamo Sanremo, quindi questo è un talent dove ci si diverte, quindi ci divertiamo. Sì. Giulia, lei è Valeria. Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che nel pensiero il vento parla di te, quest'anima senza cuore, aspetta a te, la data. Acqua e sale con... come ti chiami? Samira. Angelo. Vai, facciamo un applauso. di più acqua e sale, mi fai bere, con un corpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, puoi godere. se mi vedi in un angolo ore, d'orio ripiene, come un lago, che se piove un po' di me da uno stagno. non vorrei dire, non conviene, sono io a pagare amore e spostere bene. ti lascerò andare, ma nemmeno sapere sei, farei di tutto per poterti trattare, per me dovrai scontrare, così che si fanno quando si rimette intensamente la tua vita. ti lascerò provare a diventare i tuoi giorni, con i colori accesi le tue armi. ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. ti lascerò a diventare i tuoi giorni, con i colori accesi le tue armi. e non trattarla male, ti lascerò a crescere, ti lascerò a scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. sei pronta? si. allora si vince un viaggio. ok. quanti siete voi in famiglia? cinque. avanza un po' sopportate lui. mi porto, no, mi nipote. c'è due nipote, sei il 6, quindi... la nostra Veronica, ultimo concorrente, facciamo un applauso e poi andremo a vedere chi ha vinto il viaggio, va bene? ok, tieni. vieni qua, vieni qua, le solite parole, di un sentimento fragile, fragile, come l'asfalto si fuma, la suola, l'amore si oga. ah, 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 ah Ma tu non avresti più un battito di questa vita Che è tutto quello che conta, se conta, se ancora colla, se vedi, se sei rilassato Ed ogni peda lo sai, si finge di essere una rosa Per ogni cosa vorrei, di luglio sopra ogni cosa, ogni cosa Ma tu non avresti più un attimo della venita Che è tutto quello che conta, se conta, se ancora colla, se ancora colla, se vedi, se sei rilassato Take me to church, I worship like a dog at home Ricordiamo il sabato prossimo qui a Greta, in via Casinina 1942 42, con il canto a tutti i tuoi, la terza puntata Ci saranno altri premi, quindi questa sera proprio lei, la nostra amica, ha vinto Non è vero, chi ha vinto? Valeria, eccola qui, ringraziamo la gioia So dove trovarti Non so come cercarti Ma sento una voce che Nel vento parla di te Quest'anima senza cuore Non so come cercarti Ma sento una voce che Allora amici del Cantatore TV, oggi ci troviamo qui a Caffè Greta Bar in via Casinina 1942 Stiamo con i proprietari di questo bellissimo locale Ciao Jimmy Buonasera Ciao Ciao a tutti Questa è la famigliola, quindi loro gestiscono questo grande bar che prossimamente avremo anche le Tabacchi, sala sglo Sì, arriverà tutto, sala WLT, arriveranno i tabacchi Un pochino di cose, diciamo, mancano inizialmente, ma piano piano, a breve ci sarà tutto Quindi abbiamo aperto da poco, giustamente, no? Quante abbiamo aperto? Settimane Settimane Quindi prossimamente faremo degli eventi qui, giusto? Già abbiamo fatto il karaoke, quindi ci sono musica quasi tutti i giorni Quindi venici a trovare qui in via Casinina 1942, Bar Greta Jimmy, insomma, annunciamo quello che fai, diciamo Diciamo le serate in un tema particolare, cosa fai da mangiare, un po' di tutto, dai Allora, noi puntiamo, diciamo, il nostro conto forte sono i cornetti Puntiamo su quello e facciamo cornetti di tutti i tipi Cornetti pandistelle, ringo, kinder bueno, cose un po' particolari E questo è il cuore, diciamo, di questo bar Quindi per adesso abbiamo, diciamo, cornetti sfornati quasi tutte le ore Tutte le ore, ogni due ore sono i cornetti caldi Poi ricordiamo che noi chiudiamo alle 22 di sera, giusto? Qui si chiude alle 22 di sera Non chiude mai, siamo un 24 ore Ah, 24 ore su 24, eh, ti vedo anche, è un po' giù, vabbè, però dai, è l'inizio Una volta non... giustamente ci vede un po' giù, perché è la prima volta che... Però il locale, insomma, è molto bello, luminoso, pieno di giovani, quindi dai, promette bene Sì, abbiamo un bello staff, qualcuno è qui presente Che ora andremo a vedere, vediamo qualche sala che abbiamo qui, quindi prossimamente anche VLT, giusto? Sì, a breve A breve Quindi amici, ricordiamo che sabato 25 saremo qui con le telecamere del Cantatori TV Quindi venite a partecipare al nostro talent e qui al Bar Greta, in via Casinina 1942 Facciamo un saluto agli amici Vi aspettiamo, ciao Vi aspettiamo, ciao, ciao Venite e spendete tanto Ciao Is the animal, is the animal, is the animal, is the animal instant in me Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti